L'Aquila per due giorni sarà capitale delle province italiane, un evento importante che si trarrà ridotto del teatro comunale il 10 e l'11 ottobre prossimi. Si tratta dell'Assemblea Nazionale dell'Unione delle Provincie Italiane, l'UPI, una due giorni ricca di contenuti e incontri. Si parlerà dei fondi del PNRR da destinare all'edilizia scolastica, ma anche della riforma e dei lavori parlamentari dunque sul disegno di legge province. Per la provincia dell'Aquila e il suo presidente Angelo Caruso è motivo di grande orgoglio ospitare l'Assemblea, perché ci sarà un confronto importante anche con rappresentanti del governo, compreso il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sì, una grande soddisfazione. È un evento storico, un evento che si annovererà tra quelle che sono le azioni più importanti che sono celebrate nella città dell'Aquila, nel nostro Abruzzo, nella nostra provincia. È un evento che tra l'altro coincide con tutto il dibattito sulla riforma, che è ovviamente il tema centrale su cui le forze politiche si stanno confrontando e da questa occasione vedremo anche di tracciare un bilancio su quella che è un po' l'azione di rilancio delle province. È un'occasione anche per far visitare ai colleghi delle province italiane la città dell'Aquila, quello che si sta facendo, quello che si è fatto con l'investimento dello Stato e quindi la rinascita di una città che deve tornare a brillare con un tempo. Si parlerà anche di temi importanti, uno è ad esempio l'edilizia scolastica, il PNRR. Voi siete molto avanti da questo punto di vista? Sì, c'è un po' da recuperare il tempo perso, però il supporto che arriva dal PNRR è un supporto importante, fondi che hanno una caratteristica straordinaria. Dobbiamo in questa occasione colmare tutto il gap che c'è stato e che si è costituito intorno al tempo trascorso, dal 2009, quindi un'occasione anche quella per attenzionare un tema che rappresenta un po' la fragilità di tutto il sistema scolastico italiano.